Noi credo che interpretiamo oggi non la paura, la realtà delle situazioni. Oggi credo che prima ci si riferisse alla questione immigrazione, noi diciamo semplicemente una cosa, noi pensiamo che in un momento come questo, dove manca il lavoro, dove c'è un disagio sociale incredibile, noi crediamo che se ci sono due soldi, se ci sono dei servizi, debbano andare prima la nostra gente. Questo è quello che pensiamo noi, questo per noi è giusto e equo, per voi magari no, ma questo non è razzismo, è un'altra cosa, razzismo quando si dice razzista è la strumentalizzazione dell'interpretazione nostra invece della realtà dei fatti. Poi ci sono tanti altri argomenti perché la Lega non affronta solo quegli argomenti, ne affronta tantissimi altri, affronta la questione lavoro, affronta la questione della fiscalità, affronta anche altre questioni. Ma mi perdoni Guidesi, Guidesi, le parentele, parentele nel senso quantomeno, il camminare sotto braccio a Casa Pound, Forza Nuova, la signora Maria Le Pen, seppure la stessa Maria Le Pen si è staccata dal suo padre, che è anche il cane che gli mangia il gatto, la povera signora Le Pen, ma non è quella la cosa più grave che abbia fatto Le Pen padre e speriamo Le Pen figlia non ne segua mai. Magari parliamo di Le Pen figlia e non di Le Pen padre. No, ma è la stessa che ha lontanato il padre del fronte nazionale. Noi abbiamo fatto un accordo all'interno di forze e di gruppi parlamentari che ci sono nel Parlamento europeo contro questa Europa perché noi non ne condividiamo la gestione e le indicazioni. Ma questo va al di là di qualsiasi strumentalizzazione politica che si dà alla cosa, va al di là di tutto. Noi contestiamo, insieme alla Le Pen, ma insieme a tantissimi altri, contestiamo la gestione di questa Europa che dal nostro punto di vista è un'Unione europea che affama la gente.